Che può essere Leo Panta, piuttosto che un quadro più ricercato come il maestro Berti Prascoletto che usa la patinta con maestria e guanno il dettaglio che lavora all'opera con arguzia e con passione. Oggi si fa arte per star meglio. Mandalir dichiara pubblicamente e dichiara a me che solo mi occupo dei suoi interessi di tanti anni, la famosa Musa di Dalì, dice quando mi porti in giro, quando faccio mostre sto bene. Mi le abito quindi.